E intanto Samani in prefettura Chieti, coordinato dal capo di gabinetto del prefetto, la dottoressa Valentina Italiani, si è tenuto un tavolo tecnico per fare il punto della situazione, al termine del quale il comandante dei Vigilfuoco di Chieti, l'ingegner Antonio Panaro, ha dichiarato che la situazione è sotto controllo ed è decisamente migliorata sul fronte dell'emissione del fumo. Stiamo operando anche con dei mezzi speciali di cui siamo dotati e siamo orgogliosi di averli. È una nuovissima piattaforma, oltre a consentirci la ricognizione dall'altro, ha un bel monitore per poter operare, soprattutto in questo momento in situazioni di mitigazione. Posso dirvi che in questo momento, a quasi 12-15 ore dall'inizio dell'evento, il fumo è notevolmente diminuito e siamo ottimisti per arrivare ad una operazione completa di spegnimento nelle prossime ore, speriamo nelle prossime 24 ore. È ancora presto per quantificare danni e fare una sì, ma ha sottolineato ancora il comandante. Non si registrano comunque problemi alla viabilità. In via precauzionale si consiglia di uscire il meno possibile, di tenere le finestre chiuse nelle proprie abitazioni. Le forme di azione preventiva in questo momento impongono tutte le cautele massime. Siamo in emissioni in ambiente di un prodotto che non conosciamo, e quindi abbiamo bisogno di fornire anche all'Arta che sta operando ottimamente i rilievi, e quindi ci dà supporto in questo anche per la fase di pianificazione e di risposta delle operazioni di pianificazione. Abbiamo bisogno di capire qual è esattamente il prodotto che sta bruciando. Purtroppo questa società fa un lavoro particolare, ricicla dei materiali di scarto di altre produzioni, e quindi non è pienamente a conoscenza, ma la stiamo coinvolgendo per avere questi dati. Difficile avere una sima dei danni. Si ha un'idea di cosa possa aver causato l'incendio? No, in questo momento è troppo presto, ma d'altronde la potenza del fuoco è stata veramente notevolissima. Qualcuno avrà potuto già vedere da ieri sera, alle prime ore, intorno alle 21, le fiamme erano altissime, c'era un coinvolgimento totale di un ottimo combustibile, quindi è impossibile in questo momento determinare caos. Il sindaco Diego Ferrara, che si mantiene in stretto contatto con tutti i sindaci dei comuni limitrofi, nelle prossime ore potrebbe manare una nuova ordinanza per mantenere chiuse tutte le scuole di ogni ordine grado di Chieti, anche nella giornata di domani. Potrebbe essere estesa anche nella giornata di domani l'ordinanza per la chiusura almeno delle scuole? È molto probabile, direi che è molto probabile che ciò accada. Ovviamente lo faremo in tempi più anteriori rispetto a quelli a cui siamo stati costretti questa mattina alle sette e mezza. D'accordo, sentiamo la polizia strontale.